Bene, bene, sono super contento e felice di sapere che sei arrivata, è arrivato anche tu fino alla fine dei 40 giorni, anzi in realtà sono 41 giorni e mi auguro che hai preso tantissimi strumenti, strategie, metodi da applicare nella tua quotidianità. Sicuramente alcuni concetti li avevi già letti, li avevi già praticati, li avevi già studiati, ma altre volte magari sono alcuni aspetti che hai studiato, praticato nel tempo e oggi averli rispolverati sicuramente questo tipo di percorso ti ha dato anche l'opportunità di riprendere col controllo, controllo dei tuoi pensieri, controllo delle tue emozioni, controllo delle tue scelte e decisioni. E allora perché non andare oltre? Andare oltre è sapere che ci sono tante altre opportunità e se sei arrivato fino alla fine sei un po' come me, curioso, ha voglia di sapere, ha voglia di migliorare, ha voglia di conoscere di più in profondità quali sono le capacità che possiamo mettere in azione per realizzare i nostri sogni e per seguire la nostra missione di vita o per seguire anche la nostra vera chiamata per ovviamente materializzare quello che è la nostra unicità. Sì, perché molte volte quando leggiamo un libro, studiamo, facciamo dei percorsi particolari, ci identifichiamo tanto in quel metodo, ci identifichiamo tanto in quella persona, in quel percorso e molte volte perdiamo la nostra personalità, la nostra vera e unica autenticità. E allora, se ancora non lo sai, abbiamo creato due percorsi. Il primo percorso è alle isole Canaria, Fuerteventura. Talent Lab Adventure sono sette giorni insieme dove con un gruppo di 14, massimo 18 persone, possiamo mettere in pratica qualcosa di unico e speciale, che non è solo un aspetto logico, non è solo un aspetto creativo, intuitivo, ma è anche un concetto emotivo. Perché alla fine quello che resta di più nella nostra esistenza sono le esperienze che facciamo, sono le emozioni che viviamo e le relazioni che abbiamo creato nel tempo. Se abbiamo mantenuto in equilibrio queste tre aree fondamentali, abbiamo avuto tutto ciò che desideriamo nel concretizzare la nostra vita. Ovviamente dentro questi tre ingredienti ci sono tante altre fasi sottostanti che devono essere messe in equilibrio, ma questi sono i tre punti fondamentali. E allora abbiamo creato questa settimana sette giorni dove ogni giorno andremo a visitare vari luoghi all'interno dell'isola e all'interno di ogni luogo, ovviamente sai che nei posti all'estero, così come in tanti altri posti del mondo, ma anche in Italia risiedono delle energie potenti, no? Perché comunque c'è un ambiente anche abbastanza neutro rispetto all'Italia. Vuoi che ci sono meno interferenze, vuoi che c'è meno inquinamento, sia acustico che atmosferico, ma anche di interferenze a livello di 4G, 5G e quello che è, e quindi il nostro corpo ne risente molto di più. È come se in una settimana purifichiamo la nostra mente, i nostri pensieri e non solo, anche le nostre emozioni per poter riprendere in mano la nostra vita e avere il controllo pieno di quello che vogliamo creare e realizzare. In questi sette giorni insieme ti assicuro e ti prometto che tornerai a casa cambiato, trasformato e hai alimentato dentro di te quella struttura nel capire qual è la tua strategia per comprendere la tua voce interiore, per comprendere come vibra e suona la tua anima. E a volte lo sappiamo, lo sappiamo che dentro di noi c'è una voce più profonda che ha voglia di comunicare, che ha voglia di esprimere, che ha voglia di dirci ci sono anch'io, esisto anch'io, ascoltami, ho bisogno di te. Quante volte l'hai sentito e magari l'hai lasciato da parte, quell'aspetto nel sentire quella tua parte più profonda e poi sono arrivati degli errori, sono arrivati quegli errori che già sapevi che erano sbaglio, già sapevi, conoscevi dentro di te che in profondità non era la cosa giusta da fare. E allora in una settimana mettiamo insieme tantissimi aspetti legati all'identità, al comportamento, alle abitudini, ad alcune capacità nel entrare in profondità per riprogrammare la nostra parte più profonda che è il nostro inconscio, che crea degli automatismi, oltre a vedere posti straordinari e a stare insieme a persone uniche e che parlano poi la stessa lingua. Perché? Perché molte volte quando c'è un confronto troviamo sempre delle resistenze, troviamo quasi sempre delle interferenze che non ci aiutano a evolvere e entrare nella nostra motivazione per raggiungere i risultati che vogliamo. Quindi vai subito nel sito, invia la tua candidatura talentlabadventure.com e noi siamo qui presenti per darti tutti gli strumenti migliori e ad accoglierti nei migliori dei modi. Ovviamente una volta che ci contatti riceverai il programma, riceverai alcune offerte, degli sconti particolari per te che sei iscritto a questo canale e ovviamente ci sarà tutta la spiegazione di cosa faremo e cosa praticheremo all'interno di questo bellissimo percorso. Ora, se è una cosa che risuona, che senti, fai subito il passo. Oppure ti invito a visitare il sito ISEC International, che è un percorso esclusivo di un anno, dura da settembre a gennaio, che abbiamo creato insieme con la dottoressa Consuelo Zenzani, la dottoressa Chiara Bellò e Anna Cavagnoli, insieme a me, dove mettiamo insieme tantissimi metodi legati al mondo del coaching, alla psicologia e alla scrittura creativa, intuitiva e terapeutica. Oltre a quattro relatori, stiamo insieme per ben 170 ore, dove un percorso di questo genere, ovviamente alla fine di questi mesi, insieme, perché sarà per tre volte alla settimana, dove ci vedremo attraverso il video online, però siamo noi presenti e non sono dei videocorsi, possiamo interagire e alla fine di tutto il percorso potrai ricevere il certificato. Potrai ricevere un certificato dove potrai semplicemente tenerlo con te per sapere che hai affrontato un percorso straordinario ed evolutivo durante l'anno, oppure se hai voglia di creare una tua attività nel mondo del coaching, nel mondo della formazione, nel mondo della consulenza, e non solo perché a volte il coaching viene passato per delle informazioni magari diverse rispetto a quello che normalmente vogliamo apprendere come informazione, ma dentro questa struttura, cioè coaching psicologia, che altri non ti danno, e altri metodi con tutti i relatori annesse e connessi, e quindi alla fine del percorso avrai un certificato per poter esercitare questo tipo di formazione, di professione, se sarà nelle tue corde, se lo vorrai, oppure potrai integrare tutto questo percorso nel tuo lavoro. Quindi fai due passi. Allora, vieni alle Canarie, se senti che è una cosa tua, fai il percorso ISEC. Ovviamente se farai tutte e due le cose, avrai uno sconto veramente importante sul totale del percorso. Quindi contattami, contattami direttamente in privato, info, chiocciola carlolesma.it, se ti piace tutto il percorso, invia i tuoi dati e ovviamente restiamo a tua disposizione per darti tutte le informazioni necessarie per intraprendere un percorso straordinario nella tua vita. Sono comunque onorato e felice di sapere che tu, come altre persone, sei arrivato alla fine di questo percorso e come avrai preso, intrapreso, attraverso il percorso che si evolve, attraverso il percorso che entriamo in conoscenza più profonda di noi stessi. È bello, sì, un corso di una giornata dove possiamo condividere tante esperienze, è bello, sì, leggere un libro, ma unendo le forze, integrando le nostre capacità, integrando la capacità di confrontarci in modo propositivo, sono certo e sicuro, così come la dottoressa Consuelo Zenzani, Anna Cavagnoli, Chiara Bellò, sono allineati su questo aspetto, potrai raggiungere ciò che veramente è più importante e più utile per te nella tua vita. Fai il passo, scrivimi direttamente alla mia mail, info, chiocciola carlolesma, e guarda, guarda anche il sito, guarda tutte le informazioni, comunque contattami direttamente in privato se ti interessa tutto ciò che ti ho detto, così possiamo prendere un appuntamento e sentirci direttamente di persona.